Ciao, bentornati. Oggi parliamo sempre di concorso A01. Ci siamo quasi. Hanno estratto la lettera U in Emilia-Romagna. Nelle vostre regioni io non so come sono messi a estrazione, però ci aspettiamo da un momento all'altro che venga istituita la commissione, venga stabilita la sede, quindi ci aspettiamo di avere la convocazione per andare a fare questa benedetta o stramaledetta prova pratica? Non lo so. Io nel frattempo ho raccolto alcuni messaggi inviati dai colleghi in occasione dello scorso concorso 2020 che si è concluso nel 2023 e siccome è stata una delle domande più gettonate che mi avete fatto, ho deciso di realizzare un video in cui ho raccolto tutti quei messaggi insomma che sono riuscita andando indietro con un whatsapp di un anno e cercare all'interno di una chat veramente super ricca perché scrivevamo tutti i giorni opinioni, feedback, eccetera. Quindi il lavoro è stato un po' complicato, ma so che lo apprezzerete. Partiamo subito. Piccola premessa. Per noi erano state estratte le tecniche pittoriche. Ora parliamo di argomenti. Prima traccia, fare manifesto per un museo, ideando anche un'attività didattica. Questo dell'ideare l'attività didattica vale per tutte le tracce che io adesso vi andrò ad elencare. Semplicemente la collega ha voluto essere precisa nel raccontarci la traccia che lei aveva estratto. Quindi va ideata sempre e comunque un'attività didattica, ok? Perché vi ricordo, insieme alla prova pratica bisogna realizzare anche la relazione. La relazione che deve avere un capo e una coda e deve appunto prevedere, a seconda dell'argomento, della traccia che viene estratto quel giorno, deve avere un inizio e una fine di un percorso didattico preciso che stabilisci tu lì per lì e che devi chiaramente scrivere all'interno della tua relazione. Relazione che va scritta a mano, ci saranno dei fogli protocollo, quindi non ci sarà il computer. Bisogna innanzitutto prevedere i destinatari, prevedere quindi a quale classe si fa riferimento. Una volta stabiliti i prerequisiti che gli alunni hanno già raggiunto, bisogna definire gli obiettivi che si intende raggiungere. Si vanno poi ad elencare le metodologie didattiche che vengono attivate, oltre all'elaborato grafico, del quale daremo esempio concreto noi con il nostro elaborato grafico prodotto proprio in sede d'esame della prova, che sarà realizzato su un foglio 50-70, che vi dico, in occasione della mia prova, un foglio che non doveva essere occupato interamente, ma poteva anche essere fatto un riquadro, una specie di cornice, quindi si poteva lavorare anche un po' più in piccolo, giustificando chiaramente la scelta. E quindi una volta stabilite le attività didattiche, si dice gli obiettivi che si è veramente raggiunti, e si mettono, si mette la valutazione, cioè come verranno valutati i ragazzi, e poi volendo anche delle osservazioni si possono aggiungere. Torniamo alla traccia che vedete proiettata qui. Io ve la proietto qui, ma leggo il computer di là, non sono pazza. Quindi in questo caso, lei dice, ha scelta la tecnica e lo stile riferito tra i movimenti artistici. Sì, perché noi avevamo tecniche pittoriche, si poteva scegliere acquarello, tempero o collage. Materiali forniti sempre dalla commissione, ci si poteva portare solo i pennelli, pennelli e matita, squadre, quello che... Prima traccia, manifesto per un museo in stile Liberty. Seconda, manifesto per un museo in stile cubista. Terza, manifesto per un museo in stile surrealista. E poi vedete appunto, lei scrive, c'era scritto per ogni traccia che bisognava fare una relazione sintetica del processo ideativo ed esecutivo del manifesto, e sintesi di una ipotetica attività didattica. Si ha un foglio protocollo, non si può... Cioè, non è che non si può... Però si possono utilizzare anche più fogli, però chiaramente a loro interessa che tu concentri il succo in maniera efficace, senza essere troppo prolissi. Altra traccia, manifesto per un museo in stile art deco, in stile dada o in stile futurista. Sempre la relazione didattica. La nostra commissione era un po' fissata con i manifesti per i musei. Questa era molto bella, quando io l'ho letta mi sono morsa le mani perché mi sarebbe molto piaciuto realizzarlo. Quindi, realizzazione di un murales a tema da scegliere. Pace, rispetto reciproco, cura del pianeta, dieta mediterranea. Sono tutti argomenti molto belli. Mi era piaciuto quando io l'avevo letto perché già mi ero immaginata comunque l'interdisciplinarietà con educazione civica, tecnologia anche. Poi, altra traccia, propone alla classe una pagina pubblicitaria che sponsorizza un flacone di profumo oppure un pacco di pasta oppure il progetto di una bici elettrica. Qui io ho tremato. Veramente ho tremato perché non mi piacevano assolutamente. Soprattutto quello della bici elettrica. Vabbè. Poi, ecco, copertina di un libro ispirata all'arte gotica, al barocco o all'arte neoclassica. Traccia successiva. Paesaggio invernale in stile divisionista. Paesaggio primaverile in stile divisionista. Paesaggio autunnale in stile divisionista. Quindi lo stile artistico già era definito, era il divisionismo. bisognava solo scegliere insomma, in quale stagione realizzare il nostro paesaggio. Questa proprio zero. Non mi piaceva. E poi, interpretazione di Medusa e di Caravaggio. ritratto alla Warhol, ritratto alla Vasarely. In poche parole, il ritratto. Anche questa, secondo me, era molto bella. Però il fatto di non poter consultare nessun tipo di manuale durante, appunto, la prova pratica, tu devi avere molto, cioè, bene in testa le immagini di riferimento. Perché se devi ispirarti alla Medusa e di Caravaggio o a un ritratto alla Warhol o uno alla Vasarely insomma, devi essere ben... E poi in quei momenti lì la lucidità non è che proprio la faccia da padrona, eh, quindi... Però interessante anche questo. Io credo che avrei scelto Warhol. Poi un'altra traccia qui non sono riuscita a collocarlo non mi ricordo neanche bene. Comunque, i temi erano il viaggio, la città contemporanea e il giardino incantato. Qui solo dei temi. Poi, ultima traccia che sono riuscita a ripescare all'interno di questa chat veramente ricca di contenuti perché ci scrivevamo tutti i giorni realizza pagina di una rivista riguardante la pubblicità di un cosmetico, una merendina o uno zaino. Anche io avevo fatto la pagina di una rivista con una pubblicità ve l'ho già raccontato in altri video. Anche questa non mi piace per niente. Però, vabbè. Poi un'altra cosa che volevo dirvi è questa. Tenete conto che per quanto riguarda dal voto finale in graduatoria avremo una media tra il voto ottenuto al test generale quello, il computer based che abbiamo appena affrontato. poi a questo va aggiunto il voto che noi otterremo dalla media tra la prova pratica e l'orale quindi la prova pratica e l'orale faranno media quindi al voto del test più alla media tra la pratica e l'orale si aggiungeranno i titoli e i servizi. Quindi queste tre componenti andranno poi a determinare il voto finale che noi otterremo e perciò la nostra posizione in graduatoria. Poi voglio mettervi anche lo screenshot di questo messaggio di una collega perché avete tutti grandi dubbi circa la relazione pratica. Io ho provato a spiegarvelo più volte però continuate giustamente perché anche io ero così insomma e dice io mi sono immaginata di proporre e svolgere l'intera attività con la classe questo bisogna fare anche per chi non ha mai insegnato posso cioè sicuramente sarà ancora più difficile per voi però l'obiettivo è quello lì cioè ti devi veramente immaginare di essere davanti alla classe. Quindi nell'introduzione lei parla della sua relazione didattica ho presentato il tema e ho chiarito lo scopo del progetto quindi presenti il tema dai il titolo chiarisci dove vuoi arrivare con il tuo progetto quindi gli obiettivi quali obiettivi avrei voluto raggiungere e quali valori avrei voluto trasmettere quindi magari che ne so mi viene da pensare che lei avesse avuto a che fare con una traccia magari che magari ha legato anche con l'educazione civica adesso ricordo questo messaggio da dove l'ho estrapolato ho indicato a che classe mi stavo rivolgendo quindi i destinatari della classe nel secondo punto ho presentato brevemente l'attività io avevo pensato anche ad altro oltre al laboratorio in sé quindi oltre al laborato grafico lei aveva pensato anche ad un'altra attività da realizzare che poi è quello che ho fatto anch'io indicando anche come avrei suddiviso i lavori sì anch'io l'ho fatto infatti avevo messo tipo fase 1 fase 2 fase 3 nella conclusione ho inserito il risultato atteso e un paio di osservazioni però poi lei scrive ma è a discrezione di ognuno di noi non è detto che io abbia fatto bene io ho fatto uguale a lei forse anche ispirandomi perché io alla fine sono cioè io sono capitata proprio alla fine perciò ho avuto l'opportunità di leggere i feedback di tutti gli altri e arrivare preparata l'obiettivo di questi video che io faccio è questo qui fornirvi delle esperienze fatte da me stessa quindi da me in prima persona ma anche da altri spero che se c'è qualcuno dei colleghi che ha fatto il concorso con me ha visto i suoi messaggi screenshotati insomma non se la prenda ma proprio l'obiettivo è quello di condividere insomma con più persone quello che noi già abbiamo affrontato in modo tale che uno non vada là con l'ansia perché alla fine io penso che se uno si butta a fare un percorso di questo tipo è un percorso a ostacoli non è assolutamente un percorso facile vuol dire che proprio ha una profonda passione per la materia e ha un fortissimo desiderio di trasmettere la propria passione agli altri quindi secondo me questa è la cosa giusta buon vi ringrazio se avete domande scrivetemele nei commenti e noi ci vediamo alla prossima ciao